Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi parliamo di Challengers, l'ultimo film di Luca Guadagnino uscito qualche giorno fa nelle sale italiane e tranquilli, questa sarà una recensione senza spoiler come le ultime sul canale, quindi se non avete visto ancora il film potete continuare la visione per l'intero video. Prima di iniziare però vi invito come sempre a seguirmi su tutti gli altri social, Instagram, TikTok, Letterboxd, i link sono tutti nella descrizione e in descrizione c'è anche il link di Pampling, il sito di t-shirt, Nerd, con cui collaboro ormai da anni. Il codice è sempre quello, il pensiero 4, e vi darà un paio di calze gratis a scelta. Adesso però iniziamo a parlare di Challengers perché ho diverse cose da dire. Questo è il primo film di Guadagnino che vedo in sala, non ho visto tantissimo del regista, ho visto solo i film più famosi, quelli più mainstream, partendo da Call Me By Your Names, chiamami col tuo nome, Suspiria, il remake del film di Dario Argento, Bones and All che ho recuperato solamente qualche giorno fa su Prime Video e appunto Challengers, non ho visto altro. Però comunque attendevo di vedere questo film, non solo perché me ne avevano parlato bene, ma perché c'è Zendaya, ok? Ma forse mi aspettavo qualcosa di leggermente diverso. Sono comunque contento di averlo visto perché è un film davvero bello, anche a livello tecnico, ci sono delle cose che ho apprezzato tantissimo, soprattutto nel terzo atto, non solo con qualche espediente visivo che è pazzesco, la scena della palla, chi ha visto i film capirà, quella è stata veramente mozzafiato, non posso solo che fare i complimenti a chi ha ideato o realizzato la scena, ma ci sono anche altre cose che sono veramente belle. La cosa interessante è che non sono dei virtuosismi esagerati solo per far vedere che sa fare queste cose, per quanto mi riguarda sono proprio dei tecnicismi ben realizzati e ben contestualizzati al momento. Il film lo vedrò sicuramente anche in originale perché voglio vedere le interpretazioni degli attori. Nella mimica, l'unica cosa di cui posso parlare vedendolo doppiato, sono stati bravi, dicono tutti che Zendaya abbia fatto il ruolo della vita, ma credo sia anche un po' presto per poterlo dire, ma quasi quasi ci conterei anche, probabilmente non è il ruolo della vita, ma è il ruolo che forse cambierà leggermente la sua carriera. Volevo vedere tanto il film, anche e soprattutto per Zendaya, però questa è stata la prima volta che l'ho odiata. Ed è comunque nell'intenzione del film, perché questo è il personaggio. Le seguenti saranno cose positive, naturalmente, anche se userò aggettivi negativi. Il personaggio di Zendaya, questa Tashi, è veramente un personaggio terribile. Prima dice di non voler essere una certa cosa, ma poi è letteralmente il ruolo che ha nel film. E tutte le azioni che fa, tutte le scelte che prende, servono solo a contribuire a questo essere un personaggio di merda proprio. Ma in realtà in questo film non è che esistano personaggi buoni. Alla fine è un po' come nella vita reale, nessuno è realmente buono al 100%, infatti anche il personaggio di Joshua Connor, Patrick, ma anche quello di Mike Faist, Art, mettono del loro per essere delle brutte persone. E questo ovviamente fin dall'inizio, anche se a un certo punto non so perché parteggiavo per Patrick, per il personaggio di Joshua Connor. Non so se nell'intenzione iniziale ci fosse quella di far parteggiare per uno dei due, ma è successa così. Anche perché comunque è un film sportivo, non c'è solo la parte drama, romantica e robe varie. Al centro c'è il tennis ed è molto centrale nella narrazione, e mi è piaciuta questa parte anche se a me del tennis effettivamente non è che freghi tantissimo. Certo, vedere Zendaya, le scene di Zendaya giocare a tennis è stato comunque interessante, le rivedrei ancora, però non sono appassionato di questo sport. Ma il film è riuscito a farmi stare a bocca aperta e attaccato allo schermo, a guardare le partite, soprattutto naturalmente la partita finale, quella decisiva, non tanto per lo sport in sé ma quanto più per i personaggi stessi. Infatti, infatti quella partita è tanto simbolica in quasi tutto ciò che succede, anche se per quanto mi riguarda il finale non è che sia così tanto comprensibile al 100%. Ho ancora dei dubbi su ciò che è successo e il perché sia successa una certa cosa, però anche quello alla fine mi è piaciuto perché si può intuire che cosa significhi e come possibilmente off-screen andranno avanti le vite di questi personaggi. So solo che, ripeto, non ho sopportato Tashi. E per quanto mi riguarda in questo caso è positiva come cosa. Diversamente da come mi aspettavo, il film non è mai spinto al 100%, comunque non è mai volgare o eccessivo. C'è qualcosina ma non... niente di eccessivo, appunto. E non è assolutamente un punto a sfavore, anche se comunque quel tipo di scene non avrebbero distrutto poi così tanto il film. Però ho apprezzato questo modo di raccontare, di far vedere questo triangolo amoroso tra i tre personaggi. Anche e soprattutto nelle scene di intimità. Cercando di chiudere comunque con quelli che secondo me possono essere un po' i difetti del film, probabilmente ci sono un po' troppe linee temporali in cui si ambientano i fatti. Hanno comunque un senso di esistere, perché in ognuna succede una certa cosa che serve poi a dare più significato al finale del film. Potrebbe essere magari un po' confusionare per qualcuno, ma dato che a metà del film mi è partito un forte mal di testa, e capirete anche il motivo fra poco, ve lo dirò, contando questo mal di testa il film è riuscito a farmi capire tutto, anche con questi viaggi temporali, che non sono viaggi temporali nel vero senso della parola, però una volta una scena ambientata a 13 anni prima, una volta un giorno prima, una volta qualche giorno prima, indefinito, una volta 13 settimane prima. Ok, ci sono tante tante cose di questo tipo. Ripeto, a me non ha dato particolarmente fastidio, ma per qualcuno potrebbe essere un piccolo muro da scavalcare. Altro piccolo difetto secondo me, ci sono forse troppi slow motion arrivati ai momenti delle partite, però essendo un film sportivo, lo slow motion diciamo che è una caratteristica predominante in questo tipo di film, per rendere il tutto possibilmente anche un po' più epico e glorioso, però ce ne sono diversi anche su dei movimenti che forse non ne necessitavano. Ultimo difetto che però si collega a uno dei pregi maggiori di questo film, la musica. La musica è tanto tanto bella, tanto che i compositori sono comunque Reznor e Ross, però viene forse usata un po' troppo. E dato che cattura subito, essendo così bella, toglie un po' di spazio a ciò che si vede. C'è qualche scena, per esempio quella della spa, che avrebbe giovato forse di un silenzio migliore, invece di sentire la colonna sonora ripetuta. Anche perché, e credo sia un problema del cinema in cui sono andato perché non ne ho sentito parlare a nessun altro, durante la visione, quando partiva la musica, un qualsiasi tipo di musica, questa sovrastava totalmente i dialoghi, non si sentiva nulla. Credo appunto fosse un problema del cinema, quindi il sonoro non... penso, spero, non sia un problema di Challengers in sé. Questo è esattamente ciò che si è sentito durante le diverse riproduzioni della colonna sonora. O ancora con la track, quella con le voci angeliche, ecco, le casse iniziavano a gracchiare e questo è stato uno dei motivi per cui mi è venuto mal di testa a metà visione, veramente insopportabile. Questa volta detto assolutamente in modo negativo, non c'entrano i personaggi. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi di Challengers. vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social e il link di Pampling, codice ilpensiero4 per avere un paio di calze gratis a scelta. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti.